Le prime cose che si nota quando si prende nel braccio i cani. Esatto, un'altra caratteristica di questo pelo del dandy di Monterrier è praticamente la coesistenza quasi sul corpo di un pelo che praticamente è parzialmente duro e parzialmente morbido, quindi le differenze di colore, quindi chiamiamole queste striature, questo brinder che può comunque apparire alla vista, in realtà non è una differenza proprio di colore, ma è una, gli inglesi lo chiamano penciled, praticamente è come se questo pelo fosse diciamo con una matita diciamo toccato, per cui c'è una coesistenza di duro e di morbido, morbido che si trova in testa, esatto, è parzialmente presente in piccole striature anche sul corpo, quindi questo dà questo melange di colore che in realtà, ripeto, non è una differenza proprio di colore, ma è una differenza di qualità di pelo.